Ritorna ad essere protagonista delle telecamere della vita in diretta, storica trasmissione pomeridiana di Rai 1, la città di Agropoli, grazie alla foto di Alfredo Lobrutto, cittadino del posto, che da piazza San Severino, nel centro storico della cittadina agropolese, ha scattato una foto che sembra ritrarre in un fascio di luce la sagoma del Cristo Redentore. Sembra davvero Gesù? La testa, le braccia, complimenti. Questo è il commento di un utente di Facebook, uno scatto che ha catturato immediatamente l'attenzione di tanti, diventando virale sul social network Facebook e di Instagram, facendo registrare centinaia di condivisioni. E non potevamo non invitare nella nostra redazione l'autore dello scatto che sta facendo tanto parlare di sé, lo scatto che ritrae appunto la sagoma, la figura del Cristo Redentore, pubblicato da Alfredo Lobrutto, cittadino di Agropoli, ma originario del napoletano e quindi di Torre del Greco. Allora, Alfredo, sono miliardi di messaggi e telefonate, mi dicevi poco anzi, che sta ricevendo anche di notte, anche da un'attenzione internazionale, tra l'altro. Ieri ci sono state le telecamere della vita in diretta, che sono venute qui ad Agropoli per intervistarti e per capire nel dettaglio che cosa è successo. Ma facciamolo sapere anche i telespettatori di Cilento Channel, che a questo punto saranno curiosi. Come mai questo scatto, insomma, che cosa che ha attirato la tua attenzione? Guarda, è stata una causalità, diciamo così per caso, un gioco, perché io faccio foto, cioè non le faccio, però me le tengo per me, non le ho mai pubblicate, soprattutto sul mio profilo Facebook. È capitato che venerdì pomeriggio con mia moglie in macchina camminando e abbiamo visto questa luce a San Marco nel mare, bella, attiravala perché era bella, però stavamo in auto, non avevamo avuto modo di poter fare questa foto e siamo andati a casa. Quando sono sceso da casa era proprio nitida di fronte a noi, cioè un'immagine, è come un richiamo che ho avuto. Ho iniziato a fare degli scatti e in quel momento lo scatto che è stato pubblicato era quello che mi ha detto lo devo pubblicare, cioè era troppo bello, per me era l'immagine proprio del retentore che abbracciava Agropoli, sai come una benedizione, ho detto la voglio condividere e ci ho scritto il Cristo di luce sul mare di Agropoli e l'ho pubblicato. Il fascio di luce dà l'impressione proprio della gigantesca statua del Cristo Redentore che ritroviamo a Rio de Janeiro in Brasile, a Lisbona in Portogallo, ma anche in Campania e precisamente a Maratea. Oggi se ne parlerà al programma RAI La Vita Indiretta, ma sta già facendo parlare di sé da alcuni giorni mettendo a confronto religiosi e non. De chi mi accusa di avere la manipolata, il falso, blasfemia, anticristo. Qualcuno magari ha scritto nei tanti commenti che hai ricevuto che magari possa essere una foto ritoccata, ma questo lo possiamo smentire. Ma sicuramente, non se ne è stata pubblicata solo la mia di foto, ce ne sono centinaia di foto pubblicate diverse di altre persone, però non so, la mia non lo so. E infatti ha attirato anche l'attenzione di religiosi e non religiosi. Sì, sì, ti ripeto, messaggi di ringraziamento, ma sono migliaia di persone che mi ringraziano di aver mostrato loro quell'immagine. Guarda, il messaggio che posso trasmettere è quello di guardare con i propri occhi in quell'immagine e di pensare e di credere in quello che si vuole. Cioè per me io la guardo e guardo il Cristo del Redentore, tu la puoi guardare e magari può vedere un gioco di luce. Sicuramente dobbiamo capire che la natura ci comunica in qualsiasi modo. Cioè anche Dio ci può comunicare in qualsiasi forma, in qualsiasi modo. E quel gioco di luce può essere magari un segnale oppure un modo per comunicare anche il senso della nostra natura. Ricordiamo anche che tu non sei un fotografo, fai totalmente tutt'altro lavoro. Allora, io faccio lo chef, però mi occupo anche di scenografie teatrali, allestimenti per spettacoli. E comunque l'occhio artistico. L'occhio che ho fatto, lo sai, il carnevale, ho partecipato a molti eventi e quindi posso dire anche che ho pubblicato un libro per bambini e quindi un po' la vena artistica c'è sempre stata. La fotografia sì, era per me, non l'ho mai mostrata, però questa qua ti ripeto come prima è andata proprio perché era bella e doveva essere condivisa. Non resta che sintonizzarsi nel pomeriggio sul Rai 1 per ascoltare l'intervista realizzata domenica 3 marzo su Belvedere del Castello Angioino Aragonese all'autore dello scatto che ha stupito migliaia di persone. Ne vi aspetto oggi, mi raccomando, seguite le interviste, grazie a voi per avermi invitato. A che ora bisognerà sintonizzarsi sul Rai 1? Dalle 5 meno 20 in poi.